martedì 6 dicembre 2016 benvenuti in diretta qui con good morning milano una puntata davvero interessante l'avevo già anticipato ieri torniamo a parlare di spot avete come ci siamo appassionati parliamo di spot e di quegli spot che qualcuno si ostina a chiamare minori e noi gli rispettiamo sempre ma minori di chi oggi sono le 9 e 31 in questo momento in diretta e oggi qui in studio con noi abbiamo marco paganucci che è lo special team coordinator dei rhinos milano futuro americano esatto come direbbero quelli bravi amiche e amici di milano all news buongiorno a tutti buongiorno a marco grazie mille di essere qui grazie a voi parliamo appunto di questo sport che qualcuno si ostina a definire minore che però insomma nei stati uniti è il sport più seguito è quello che muove i più grandi incassi pubblicitari famoso super bowl e tutto in italia non è più forse da che poi lo sport così minore foto il futuro americano a ridendo e scherzando diciamo che il football americano in italia nasce nel 78 quindi abbiamo 38 anni di storia maggiorenni e vaccinati diciamo più che maggiorenni e vaccinati e quello che ci tengo a dire che i rhinos milano sono la prima squadra nascono dalle pantere rosa piacenza diventano nel 78 nel 79 rhinos milano e da lì è cominciata la nostra storia una storia abbastanza appunto vecchia quindi nel 1978 che già il futuro americano arriva in italia con i rhinos appunto con le pantere rosa di piacenza che poi diventano rai l'anno successivo e raios milano che incominciano da subito a far capire chi comanda assolutamente sì i primi tre campionati sono ad uso e consumo dei rhinos 182 83 abbiamo un periodo di di magra ritorniamo a vincere nel 90 dopo di che ci addormentiamo per 26 anni come la bella addormentata nel bosco oggi raccontarei che è successo in questi 26 anni ma tu non c'eri ma scusa è quella che tu non c'eri assolutamente anni per quello ok e dicevo come la bella addormentata nel bosco come tutte come le favole più belle che ci sono ci risvegliamo dopo qualche anno di sonno ma comunque l'anno precedente avevamo fatto vedere che c'eravamo ben vivi arrivando alla semifinale e l'anno scorso così cominciamo una galoppata vincente che ci porta a vincere il titolo italiano senza aver subito mai una sconfitta non avete mai perso in un campionato dicevamo che comunque ha 12 squadre sono 12 squadre in IFL che è prima divisione infatti poi ci sono i play off per cui poi si arriva al famoso Super Bowl che abbiamo anche noi con l'Italia che mi dicevi quest'anno l'avete fatto a Cesena ok contro contro i Giants Bozzano contro i Giants Bozzano ok vittoriosi i rhinos milano assolutamente per l'ennesima tutte le partite dell'anno le avete perso mai perso una partita ed è un momento di orgoglio anche la tua storia comunque è una storia appunto legata strettamente ai rhinos perché anche tu hai iniziato io nasco nasco da come giocatore nei rhinos come direbbero quelli quelli bravi nei fabulous 80s ok o frontus così questa è una citazione per gli amici e quindi comincio a giocare con i rhinos mi trasferisco per lavoro a Roma continuo a giocare con i gladiatori Roma dopodiché finisco la mia carriera da giocatore e comincio ad allenare quest'anno posso dire che festeggio i miei 35 anni di carriera diciamo quindi appunto oltre ad avere qui un rappresentante dei rhinos della storia di rhinos anche quindi proprio della storia del futuro americano italiano ma no troppo buono tu comunque c'eri sempre io c'ero sempre messo lì nascosto in un angolo in un modo o nell'altro c'eri sempre sono quelle foto dove comunque dietro c'eri sempre 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 un po' come Paolini però insomma quest'anno anche i risultati si sono visti possiamo farlo vedere l'anello che è di una bellezza si vede poco immagino Ale riusciamo a fare una cosa che so che ti chiedo tantissimo attenzione perché c'è un effetto strobo è una cosa che chiedo a Alessandro durante allora se lo tiene così lo vedi? ok fermo così allora Marco ti chiedo solo un secondo per farlo vedere guardatelo che bello che è eccolo qua l'anello proprio quando si dice ho vinto l'anello è perché vinci un anello vero e proprio chiudi un attimo la mano eccolo qua questo è quello di quest'anno questo è quello di quest'anno personalizzato mi dicevi ogni allenatore ogni giocatore c'è il suo ok grazie Ale grazie mille poi pure grazie mille questo è il simbolo appunto che avete vinto il campionato quest'anno questo sì questo vuol dire questo grande campionato che appunto mi dicevi ci tenevo perché è veramente veramente bello nel senso che io ti ringrazio ti ringrazio ci sono scuole di pensiero differenti c'è chi dice che è eccessivo ma io dico hai vinto hai vinto bene allora se proprio devo dirlo deve essere eccessivo è un po' tamaro se devo dirlo però è bello per quello nel senso avete vinto il campionato siete giocatori di football americano già sono guardate in campo con la roba che avete addosso non potrei non possiamo non darvi un anello così mi sembra giusto mi sembra il meno tutto è ridimensionato per me è anche piccolo ecco appunto tutto è ridimensionato siete anche dei bei marcantoni direbbe qualcuno no diciamo che c'è spazio per tutti ecco questa è la cosa che mi interessa c'è spazio per tutti dimmi un po' questa cosa e soprattutto poi leghiamoci anche al discorso che secondo me è più importante ancora di come a Milano appunto i Rhinos sono importanti dal punto di vista proprio sportivo perché dà la possibilità a tutti appunto di approcciarsi a uno sport che diciamo non è uno sport violento di per sé no nel senso non è che andate in campo perché vi piace darvi allora andate a fare il calcio fiorentino per quelle robe di credo sì esatto chi vuole pelarsi vada a fare quegli sport lì o vada a fare box vada a fare altri sport proprio te li devi dare bravo voi non dovete darvele anzi no al di là di quello che e qui voglio così come si dice rassicurare le mamme in ascolto giocare a football americano non è una cosa così terribile come può sembrare cioè non c'è violenza c'è la massima espressione di quello che è il gesto atletico quello sì con gli anni siamo diventati molto tecnici infatti anzi mi dicevi che voi vecchi ogni tanto un po' i giancetti i vecchi tempi allora c'è questa barzelletta che gira così fra i vecchi dove si dice spesso e volentieri ah ma noi ai nostri tempi ci menavamo di più sì sì è vero i colpi erano più forti probabilmente perché eravamo molto ma molto ma molto meno tecnici adesso l'aspetto tecnico è cresciuto a livello esponenziale così come l'atletismo nel nei giocatori ed è una cosa che noi cerchiamo di portare parlando di Rhinos portiamo a tutti i livelli quindi quando dici tutti i livelli io pensavo a me ok due o tre squadrette avrete non di più invece abbiamo fatto il conto più a fuori ronda sono quasi 12 squadre no 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 abbiamo no no abbiamo un under un under 9 10 di flag poi dopo diremo cos'è la flag un under 13 sotto i 9 anni che possono approcciarsi al futuro americano in una formula ovviamente senza contatto esatto un under 13 sempre flag un under 15 sempre flag un under 17 sempre flag poi passiamo al settore tackle quindi dove comincia il contatto abbiamo un under 16 un under 19 quindi le nostre giovanili siamo già a 6 e la prima squadra siamo a 7 12 saremo stati e quindi possiamo dire noi abbiamo 7 squadre 7 squadre che vanno a coprire veramente tutto tutti che vanno a coprire tutta l'età non solo l'età ma anche il sesso diciamo perché appunto le squadre flag sono squadre miste sono miste sono miste noi abbiamo bambini e bambine che giocano assieme nel campionato ragazzi bene com'è il flag per assicurare sempre per le mamme così le assicuro anche mia mamma mamma sei tranquilla sei un po' fuori età per il flag no sono fuori età però insomma mia madre ancora non ha capito che cosa faccio dicevo per assicurare le mamme voglio parlare del flag della flag la flag è la versione senza contatto del football americano ed è propedeutica al al tackle football cosa vuol dire vuol dire che i nostri i nostri ragazzi cominciano ad avere le prime le prime farinature su quello che è il football quindi gli viene insegnata la tecnica gli viene insegnato a sembra strano ma è vero purtroppo a correre perché uno dei problemi più grossi che abbiamo che stiamo riscontrando è che i ragazzi non sono più abituati a correre vedi questi bambini iperattivi che vengono detti in giro sono molto iperattivi perché hanno il pollice opponibile quindi sono iperattivi per quello ma io confesso di essere un campione ad esempio di football americano sull'iPhone bravissimo Madden io sono un campione e dicevo ci si rende conto che i bambini non hanno più questa non corrono più non corrono più ed è un peccato quindi diciamo uno degli scopi principali che noi abbiamo uno degli obiettivi è quello di cercare di creare atleti o perlomeno bambini felici come si dice il football ti dà la possibilità di vivere in un ambiente sereno quello fuori discussione parliamo di bambini di under 9 parliamo di under 13 di under 15 under 9 cosa vuol dire che sono da che età iniziano diciamo dai 6 anni dai 6 dai 6 anni sì 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 noi abbiamo una serie piccoli piccoli sì sì ma c'è dei puffi che è quasi commuovente vederli in divisa con la divisa dei rhinos che diceva appunto non sono bandati ma comunque hanno divisa tutto sì sì assolutamente il casco non hanno naturalmente diciamo il casco lo shoulder pads il paraspalle non hanno le protezioni però hanno la divisa classica ma sì hanno la loro divisa che ha gli stessi colori abbiamo di bambini più bassi di questo tavolo sì parliamo di bambini meno bassi di questo tavolo fantastico quindi dicevo la flag ti porta gradualmente ad entrare nel mondo del football tackle quindi con il contatto e ti porta con tutte le o quasi diciamo le informazioni tecniche che dovresti avere come si corre come si riceve una palla come si lancia una palla come si fa uno snap come si porta come si placca senza placare vai a prendere una bandierina e così via in maniera tale che quando avviene l'approccio al tackle i bambini i bambini chiamiamoli bambini dopo diventano giovanotti sono sono formati quindi hanno la possibilità di cominciare ad apprendere nozioni supplementari dopo di che comunque avete mal che vada formato un bambino sano atletico assolutamente che potrebbe magari andare a fare un altro sport poi volendo nel senso se poi non vuole continuare noi speriamo sempre che rimangano in famiglia non ho più voglia di fare avete comunque creato un bambino sportivo atletico che insomma visti i tempi ce n'è bisogno ti dirò di più ti dirò magari non tutti lo sanno ma il numero di allenatori all'interno dei rhinos è un numero molto importante ecco questa è una cosa interessante diciamo perché è uno sport molto specifico soprattutto a certi livelli invece è il punto che poi già il tuo ruolo tu sei special team coordinator che è bellissimo questo io ringrazio la società come si dice è stupendo io come allenatore la mamma poi ti chiede ma cosa stai facendo bravo cosa fai diciamo che fino a qualche anno fa il ruolo dello special team coordinator era un ruolo di nicchia perché perché nessuno voleva farlo parliamoci chiaro perché non si dava l'importanza agli special team adesso mi dirai cosa sono gli special team fai da solo vai faccio vado da solo che sono preparatissimo infatti gli special team sono tutte quelle squadre speciali chiamiamole che intervengono in determinati situazioni di gioco esempio kick off calcio d'inizio ok calcio d'inizio è uno squadra speciale quindi abbiamo 11 giocatori sul campo che hanno delle peculiarità particolari che ti portano a poter far parte la partita di futbolicano inizia con un calcio con un kick off dalla propria metà dalla propria zona dalla propria zona e si lanci di là esatto diciamo che calci dove come dipende verso l'altra squadra verso l'altra squadra esatto l'altra squadra metterà in campo un'altra squadra speciale che è il kick off return ok quindi è una squadra che deve ritornare la palla calciata fatta apposta per prendere la palla e ritornare e ritornarla col maggior numero di yard guadagnare il più possibile esatto campo dopodiché abbiamo le azioni e questa è un'azione di calcio altre azioni di calcio sono chiamato il pieti o field goal ok che è quando segni un touchdown hai la possibilità di poter incrementare i punti calciando la palla attraverso i due pali come si dice i due pali o le corna mi dispiace fare questo gesto ma ci sta tutto in questo caso hai il pieti ok puoi anche calciare la palla cercare di andare da tre punti perché sei in in una zona tale che ti permette di incrementare ancora di più il punteggio il punteggio grazie e questo è il field goal ok dopodiché abbiamo un altro calcio che è un calcio di allontanamento chiamiamo ho quattro tentativi per coprire 10 yard non riesco a coprire le 10 yard e quindi il capo allenatore decide che forse è meglio è il caso di calciare la palla di allontanare la palla e mettere in una posizione di campo più favorevole alla nostra difesa e in questo caso parliamo di punt quindi la palla viene calciata tutte squadre speciali sono tutte squadre speciali ma ci sono giocatori quindi che fanno solo quel ruolo ci sono anche parte di altre specie allora ci sono dei giocatori che fanno parte che diciamo che sono solo specializzati in alcuni ruoli chi fa il calcio fa solo quello noi preferiamo di sì diciamo la filosofia Rhinos è una grande responsabilità anche perché tu vieni a giocare a football americano convinto di di portare la palla come i migliori running back del mondo e ti ritrovi a calciare tu dici ma che roba brutta no no che roba brutta noi vinciamo le partite con quello è una immagine infatti è una responsabilità niente male anche e si allenano con grande intensità quindi noi abbiamo adesso come come squadra la nostra filosofia è quello di avere sempre due calciatori per ruolo ok o due specialisti chiamiamoli così ok quindi due panther due uomini per il kick off due uomini per il P.E.T. field goal allora neanche lo stesso cambiano in base anche un tipo di calcio perché sono tipologie di calci differenti e in alcuni casi chi calcia deve essere anche un gran bel placatore ecco diciamo che infatti è uno spot comunque prima che facciamo la botta forica è uno spot popolare anche perché è popolato nel senso che quant'è una squadra ma guarda a roster diciamo che portiamo 55 giocatori 55 giocatori ogni partita sì più di che avete anche giocatori che non vengono a roster immagino esatto quindi cioè è un piccolo paese sì è un paesino un paesino di montagna spostiamo un paesino di montagna però trovando il discorso di prima quando dicevamo che degli allenatori rapportato alle giovanili è importante che sempre la mamma in ascolto la signora Gina sappia che c'è un allenatore che seguirà specificatamente sappia che per ogni gruppo per ogni squadra che noi abbiamo c'è un gruppo di allenatori che segue i propri ragazzi ma che mi piace molto questa vostra attenzione che avete verso questo appunto rassicurare le mamme sì nel senso che voi credo che sia quindi molto importante per voi avere questi bambini che iniziano questi ragazzi che continuano cioè ci credete molto mi sembra che non sia solo una cosa tanto per dire va bene vi facciamo vedere un po' in futuro noi crediamo fermamente nel settore giovanile perché perché il settore giovanile rappresenta fondamentalmente il nostro futuro e mi dicevi che quest'anno già hai avuto qualche i primi arrivi iniziano quest'anno noi abbiamo vinto il campionato con anche alcuni ragazzi delle under che hanno avuto l'onore e l'onere di poter fare anche il campionato di prima squadra in Civi che appunto anche nel prossimo anno passeranno altri giocatori già abbiamo cominciato adesso abbiamo cominciato la preparazione atletica e ci sono già diversi giocatori delle under 19 che passeranno in prima squadra il campionato dicevi inizia a febbraio giusto? sì febbraio marzo adesso ancora devo dircelo intorno a quelle date al momento giocate a Pero dicevi al momento diciamo lo stadio dove noi giochiamo che utilizziamo per le partite casalinghe è Pero è Pero diciamo chi magari vuole venire a vedere una partita vuole venire a seguirmi via Papa Giovanni ventitresimo ecco perfetto avete anche la benedizione dall'altro assolutamente ecco perché ecco perché l'anello fa molto cardinale montanello papale comunque immagino su facebook su internet così dove possiamo trovarvi per appunto le mamme magari noi abbiamo c'è il sito il sito dei rhinos quindi basta cercare rhinos milano e appare eccolo qua lo stiamo anche vedendo rhinos milano eccolo qua il nostro bravissimo il nostro sito avete fatto la perfect season 2016 appunto perché non avete perso neanche una partita neanche una dentro qua anche qua si trovano immagino tutte le informazioni si trovi tutte le informazioni per avvicinarsi al futuro americano anzi noi aspettiamo tutti i ragazzi che così volessero venire a vedere e informarsi ogni mercoledì e venerdì a campo l'aldiniana di via Arturo Graff 6 Milano ecco perfetto segnatevelo così da che ora dove andare la sera non ho detto a che ora dalle 19 alle 23 perfetto quando finisce la prima squadra che si sta allenando adesso noi siamo Milano on news quindi dobbiamo dire dare la cosa che è la verità non siete l'unica squadra di Milano questo va detto giusto quindi c'è il derby a Milano c'è il derby a Milano che è bello sentito mi dicevi assolutamente come è che siamo l'altra squadra di Milano dillo non so che per te aspetta non mi ricordo si si men si men saluto gli amici si si men però è interessante questa cosa cioè Milano comunque quindi è una città Milano è una città molto viva viva dal punto di vista tant'è che l'allenatore il vostro allenatore il vostro capo allenatore il nostro capo allenatore non è l'ultimo arrivato diciamo assolutamente no noi abbiamo la fortuna di avere una leggenda del football e questo dice lunga anche sull'importanza che sta ponendo questo sport in Italia o comunque almeno a Milano coach Holt è sicuramente a mio parere ma non solo a mio parere una delle massime espressioni del football americano giocato è stato capo allenatore di Nevada di University e forse è così poco importante che c'è uno stadio dedicato a lui mi dicevi sì lo stadio di Nevada che è ancora in vita lui ma comunque è ancora in vita ma sì lui può andare così allo stadio e dire vado al mio stadio al Chris Holt Stadium di Nevada e quindi ti fa capire che tipo di personaggio abbiamo dico subito che non è facile lavorare con lui non è assolutamente facile è un personaggio che io personalmente adoro perché è vulcanico non sta mai fermo è pieno di idee ma soprattutto è un perfezionista tant'è che mi dicevi che lui non vive in Italia lui viene in Italia per seguire lui viene qualche mese prima di inizio del campionato segue il campionato esatto e per voi sono mesi di inferno sono mesi di inferno sono mesi di inferno per noi allenatori sono mesi di inferno per i giocatori che però pagano però non vedete l'ora che arrivino anche immagino io guardo noi ne parlavamo l'ultimo allenamento e al di là del tra virgolette del terrore di vedercelo ripiombare nel campo che tu dici oh porca misera si ricomincia in maniera così senza 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 freni senza sosta il fatto di poter lavorare con un personaggio del genere ti dà una una carica e ti dà una voglia di vincere che è superiore a qualsiasi cosa lui ha allenato nevada nevada lui è stato anche consulente nell'hall of fame della NCAA la categoria universitaria ha collaborato con i Kansas City Chief in NFL perché è il creatore di un sistema di gioco che si chiama Pistol Pistol Offense che è unico nel suo genere e quindi ha fatto sì che le squadre di professionisti lo ingaggiassero per trovare delle contromisure al tipo di attacco che aveva che ha creato e in Italia lui sta adoperando il suo gioco in Rhinos esatto noi giochiamo Pistol ah ecco che sono a Milano da essere il pistolo non è il massimo esatto non è il massimo ma ma ti porta a fare una stagione vincente infatti come sono i rapporti con gli Stati Uniti ma i rapporti con gli Stati Uniti per noi con le squadre di Lavi c'è un scambio fondamentalmente è così un mondo irraggiungibile ma no è un mondo è un mondo assolutamente irraggiungibile al momento rapporti ne esistono con le università quello sì perché i giocatori ecco una cosa che è importante dire come prima divisione o EFL noi abbiamo la possibilità di poter far giocare due giocatori americani e un oriundo ah ok sì infatti allora se 30 anni fa 30 questa è una bella se posso dire è una bella comunque una bella scelta perché era facile se non andare a ricorrere a prendere i migliori americani portarli qua a fare un altro campionato americano era un attimo cioè e invece avete fatto qualcosa per salvaguardare comunque i nostri giocatori assolutamente assolutamente l'italianità anche dello sport nonostante ci sia americano nel nome la federazione ha deciso di limitare mi sembra una cosa interessante e poi non possono e visto in altri sport dove non c'è più questo limite appunto spesso e volentieri poi diciamo che da noi possono giocare due americani contemporaneamente ok l'americano un americano in oriundo ok quindi non hai la possibilità di farli giocare tutti e tre insieme ok proprio perché mantieni i nove undicesimi italiani però comunque c'è ancora una differenza abissale c'è una una oppure allora c'è una una differenza è vero pure che se andiamo ad analizzare tutti gli import che sono arrivati nel campionato non tutti hanno fatto la differenza anzi anzi diciamo che sono pochi quelli che fanno la differenza il livello il nostro livello sta salendo certo non possiamo essere ancora a livello di sperare di un giocatore italiano in NFL ancora è no al momento secondo me è impossibile avere giocatori in NCAA prima divisione è possibile è possibile c'è qualche esempio c'è già qualche abbiamo dei giocatori italiani che stanno studiando e giocano in NCAA prima che in seconda divisione e quindi insomma quindi mi diceva appunto che comunque i rapporti con statunitici li avete avete fatto un punto cioè comunque questa limitazione al gioco diciamo che i nostri rapporti sono più verso l'NCAA verso l'università che è il naturale sbocco anche per gli stessi atleti americani cioè quelli che non riescono ad arrivare in NFL magari si guardano in giro e vogliono fare altri due anni di football giocato giocato con la speranza di poter andare in NFL o in Canadian League e vengono in Europa a giocare in Europa perché? perché il football americano è magari nessuno lo sa ma è diffuso in maniera capillare in tutta l'Europa tutti gli stati europei hanno presso a poco tutti gli stati europei hanno le loro nazionali hanno il loro campionato a proposito dei europei come lo dire vi aspetta un importante appuntamento esatto anche questo inizia penso anche loro intorno a marzo aprile dovrebbe cominciare ad aprile e la cupa dei campioni noi andremo a giocare il torneo europeo chi sono quelli da battere? noi ah siete partiamo così? i rai non sono una squadra da battere? secondo me no noi siamo come si dice io amo dire un passo alla volta ok noi siamo una squadra che lavoriamo un passo alla volta e questo dà i frutti non facciamo proclami non siamo abituati ad urlare ok noi sussurriamo come si dice è un titolo che manca ancora in Rhinos questo? quale? quello della Coppa dei Campioni? ok quindi diciamo che cercheremo di onorare al meglio Milano i Rhinos e l'Italia insomma detta così e vi seguiremo molto molto volentieri assolutamente anzi io invito invito tutti gli appassionati invito i bambini invito i ragazzi invitiamo anche a chi non è appassionato chi non sa neanche di cosa stiamo parlando esatto così vengono e finalmente si rendono conto di che cosa è che non è non sono gli gladiatori che si stanno a uccidere su un campo ma sono due squadre di atleti di atleti soprattutto di atleti che corrono tanto anche che corrono tanto cioè io quello che dicevamo prima fuori onda era che noi abbiamo fatto un campionato senza aver avuto un infortunio ecco cioè trovate un'altra squadra a livello alto di prima divisione di Serie A ma anche andando al chiamate come volete che non abbia almeno uno che si spacchi no niente non abbiamo avuto infortuni perché perché e qui devo dire grazie ai Rhinos alla mia società gli atleti sono seguiti molto bene a livello fisico quindi noi abbiamo dei preparatori atletici abbiamo del fisioterapista abbiamo i nostri medici che seguono i ragazzi non seguono solo i ragazzi della prima squadra e quindi diciamo il massimo la massima espressione ma seguono anche i nostri bambini quindi gli stessi sono quindi hai la fortuna anche di avere insomma abbiamo dei professionisti che sono a servizio diciamocelo tutti se io vado a giocare i pulcini nel Milan non ho lo stesso ma perché devi andare a giocare i pulcini nel Milan quando puoi venire a giocare sono lo stesso dottore a Rhinos che mi sistema io non conosco anche un giocatore del Milan quindi vabbè ditemene uno non ne ho la minima idea però io sono rimasto al tipo di cacca quindi vedete voi quanto indietro sono però non ho quello lì no non ho un altro che anche controvoglia ma vai un allievo che controvoglia mi fia ma sì stai bene vai non no da noi no da noi esiste io ho lo stesso giocatore che poi la domenica sono quando giocate mi controlla e non sta dietro al al quarterback della prima squadra diciamo che lo staff medico e lo staff di fisioterapisti e di preparatori atletici fa sì che tutti gli atleti di tutte le categorie possano scendere in campo in maniera ottimale cioè senza senza avere problemi e quindi signora Gina io le do una alta riassicurazione quindi abbiamo capito che insomma lo sport migliore per i bambini ormai è quello del football americano cioè non si scappa no adesso a parte gli scherzi sicuramente è una cosa che ti dà è lo sport completo mi viene da dire sì dove chiunque può trovare la sua dimensione sì che tu sia un po' ciccio non sia ciccio che tu sia alto sia basso lento o veloce abbiamo la possibilità di far giocare tutti si dice sei ciccione scusatemi il termine dove vai con un conto come me lo puoi dire tranquillo no ma anche io non è che sia uno smilzo dove vai beh guarda viene a giocare da noi un posto per te c'è non solo un posto per te c'è ma probabilmente anzi sicuramente migliori fisicamente ah ecco quindi se hai la propensione ad ingrassare o diciamo fai una vita di tipo sedentario e i bambini oramai purtroppo dalla maggior parte ci pensano i rhinos a metterti in forma quello sì e se vai male a scuola non ti alleni dai è certo ah perché lo sport è non solo deve essere un un momento ludico e quindi un momento di di divertimento ma deve essere in qualche modo adesso senza voler fare i maestri di vita una scuola di vita cioè dobbiamo cercare di forgiare ed è sbagliatissimo il termine dobbiamo cercare di creare i cittadini di domani tutti gli allenatori guardano ai giocatori come se fossero i propri figli tra virgolette cioè io ho dei figli mio figlio gioca nei rhinos mio figlio ha 14 anni e io non metto becco perché ha i suoi allenatori però l'attenzione che riceve è la stessa attenzione che io do ai miei ragazzi di under 19 o agli atleti di prima squadra così come gli allenatori dell'under 9 dell'under 13 dell'under 15 dell'under 17 dell'under 16 danno ai loro atleti vengono seguiti e vuol dire che non solo dal punto di vista fisico ma anche dal punto di vista diciamo dell'impegno anche scolastico va bene Marco siamo in conclusione abbiamo sforato di quasi 5 minuti ma chi se ne frega perché ci piaceva infatti il tema è interessante ci piaceva raccontare questa bellissima realtà milanese nonché eccellenza italiana e quindi siamo stati ben contenti esatto ma ti fermo voglio aggiungere una cosa perché se no magari quando torno in società mi tirano le orecchie ma se ci fosse qualche sponsor così all'ascolto ma pensiamoci pensiamo di collaborare parliamo dei campioni d'italia amica esatto non parliamo così di 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 quattro scappatiche che abbiamo in Italia che la posso quest'anno andranno anche in Europa in Europa sì esatto abbiamo bisogno comunque dell'appoggio di tutti per poter fare un'altra stagione da protagonisti va bene noi te lo auguriamo davvero tanto grazie speriamo di vederti prima di fare una mano piena di anelli che neanche Snoop Dog esatto mia moglie non sarebbe tanto felice ma grazie mille davvero grazie a te alla prossima grazie io vi ringrazio anche a voi che avete seguito tutta la mattina le nostre dirette dalle sette e mezza in diretta con i telegiornali e poi in quest'ultima piacevolissima mezz'ora insieme ai Rhinos di Milano vi do appuntamento oggi pomeriggio alle 17.30 con i telegiornali sempre in diretta l'informazione di Milano all news e poi domani mattina con una puntata di Good Morning Milano ve lo diciamo già Good Morning Milano Milano News non va in vacanza ci siamo sia al set che l'otto siamo qua sempre per raccontarvi la città di Milano grazie mille e a stasera grazie a tutti i telegiornali